Sono molto felice che questo nuovo progetto per la Cruz Dior si è partito con l'idea di poter realizzare qualcosa con la Puglia, perché è la terra di origine di mio padre e allo stesso tempo mi ha permesso di esplorare come è possibile in qualche modo parlare in un modo diverso dei valori Dior con un punto di vista che è anche molto personale ho voluto interpellare Pietro Ruffo che è un artista con cui già ho collaborato in passato e che anche lui viene spesso in Puglia che conosce benissimo il territorio per vedere come poteva lui interpretare l'idea di un Miss Dior in un modo che fosse invece rappresentativo di una terra che ha un altro tipo di fiori perché ha dei fiori più naturali più campestri come i papaveri e le spighe dove è famosissimo più per questa idea campestre che per un'idea di giardino classico come aveva Dior ha una tradizione antichissima il tombolo ero molto affascinata da questa tecnica è un è un lavoro di una rarità di una bellezza di una fragilità rara più che un ricamo lo definirei un pezzo d'arte poi in realtà è diventato un tipo di espressione estremamente femminile specialmente in sud Italia le Costantine questa associazione è fantastica perché oltre a ispirarsi a queste donne che in qualche modo si impegnavano socialmente per supportare le donne locali ha anche il compito di salvaguardare queste tradizioni tessili è un'associazione che parla di come poter valorizzare e tramandare questo savoir faire nel futuro e questo credo che sia la cosa di base anche del valore della maison d'or abbiamo lavorato tantissimo con con marinella senatore che usa anche un elemento così tipico del territorio come le luminarie per le sue opere d'arti lei ha inserito poi delle delle frasi che mostrano come in qualche modo sia necessario il lavoro di tutti per poter aspirare a un risultato migliore c'è questo aspetto sempre specialmente in puglia tra il sacro e profano che è molto presente abbiamo pensato di sviluppare con questo artista locale una serie di piatti dei tarocchi e con lui abbiamo studiato tutta una serie di tarocchi che legavano sia il mondo di or che al territorio Messier Dior comincia a interessarsi ai tarocchi nel momento in cui sua sorella scompare durante la seconda guerra mondiale perché perché deve affrontare qualcosa di ignoto lui non sa se sua sorella tornerà e attraverso la magia cerca di avere una risposta ai suoi dubbi e le sue paure la cosa che per me era molto importante era far rendere coscienza di quanto valore nella craftsmanship c'è in puglia e come sia importante in qualche modo anche per le giovani generazioni non perderlo ma anche reinvestire in questo è un progetto legato alla mia origine ma è un progetto che ho sviluppato in un momento molto particolare della nostra vita non solo della mia noi siamo un'azienda che lavora tantissimo con tutto il mondo e quindi molte persone dipendono dal nostro lavoro è un progetto collettivo che coinvolgeva tantissime persone e ho trovato veramente molta sorellanza e fratellanza da tutte le persone che comunque malgrado tutte le difficoltà malgrado questo sentimento di non sapere di non capire hanno deciso comunque di lavorare con me